Per far comparire la possibilità di download di tutti i documenti, fare la sincronizzazione come sempre, ossia cliccare su Polisweb, richiedi sincronizzazione e poi conferma. Una volta fatto andare su Pratiche, cliccare su Una pratica e andare nella sezione Polisweb. Ci sarà un pulsante Tutti i documenti che permetterà il download di uno o più documenti degli eventi Polisweb. Per scaricare basta selezionare uno o più documenti e poi premere Scarica. Un'altra funzionalità di questa opzione è la possibilità di vedere quali file sono già stati scaricati. Grazie per la visione.